Inaugurato il nuovo impianto sportivo si tratta accanto alla chiesa di San Francesco a Viareggio. Questo spazio, destinato a diventare un punto di riferimento per la comunità locale, è stato realizzato grazie ai Lions Club Viareggio Versilia Host. La cerimonia di inaugurazione ha visto la partecipazione del sindaco del Ghingaro, del presidente Lions Lunardini e di soci dell'associazione. Lions vuol dire we serve, noi serviamo. Questo è un modo per essere vicini ai concittadini, ai giovani e ai meno giovani che vogliono praticare sport una possibilità anche in centro città. Per cui qui su questo campo ci sono un anno e mezzo buono dei risultati economici della canzonetta della Burlamacco 81 che ancora una volta in questa situazione particolare mi sento obbligato a ringraziare perché hanno fatto un lavoro eccelso. E per proseguire a sostenere queste eccezionali realtà, domenica 16 giugno alle 20.30 si rinnova la bella tradizionale iniziativa Lions della Cena di Beneficenza nei giardini del convento di San Francesco della Parrocchia. Cena il cui ricavato sarà devoluto interamente alle attività in favore dei più bisognosi.